L'Abruzzo torna a zona gialla, lo ha deciso la cabina di regia ministeriale. Ora il ministro Speranza dovrà confermare il livello basso di restrizioni con l'ordinanza in vigore da domenica prossima. Nella nostra regione attualmente l'indice RT si attesta attorno allo 0,81 e considerati gli altri parametri, si è così deciso che ci sono gli estremi per la zona gialla. Questo dopo due settimane di zona arancione che era scaturita dall'ordinanza del 17 gennaio scorso. Intanto quest'oggi sono 343 nuovi casi di covid in Abruzzo. Sale il tasso di positività al 6,4% dei 5.353 test processati nelle ultime ore, di cui 3.848 molecolari e 1.505 antigenici. Il più anziano tra i recentemente contagiati ha 95 anni, il più piccolo 5 mesi. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 7 nuovi casi e sale a 1.453 di età compresa tra 56 e 86 anni, due in provincia di Chieti, uno in provincia di Pescara, tre in provincia dell'Aquila e uno in provincia di Teramo. Del totale odierno due casi sono riferiti a decessi avvenuti nei giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle ASL. I guariti sono invece 332. Attualmente in Abruzzo sono 10.068 i positivi accertati, più 2 rispetto a ieri, considerando anche il numero dei guariti e dei deceduti. 389 pazienti, meno 10 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 40 con 4 nuovi ricoveri in terapia intensiva, mentre gli altri 9.639, più 12 rispetto a ieri, sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. Lo comunica l'assessorato regionale della Sanità.